Quel che è rimasto di Forza Italia sul territorio prova a raccogliere gli umori di un tessuto imprenditoriale produttivo a dir poco perplesso di fronte alle scelte del governo contenute nella manovra economica. Il coordinatore azzurro Michele Celeghin parla ancora al carroccio d'alleato ma invita i leghisti a una riflessione sulla loro alleanza coi 5 Stelle. È chiaro che tutto ciò che rientrava nell'accordo fatto prima delle elezioni e che la Lega Nord sta in qualche modo portando avanti a livello governativo va sostenuto però c'è molto da rivedere soprattutto nella fase attuale dove vediamo una manovra che vede un debito pubblico alzarsi inesorabilmente con una forte preoccupazione dei mercati. Il governo sembra quasi aver interrotto il dialogo con le imprese e col mondo artigiano sostiene Celeghin è fondamentale ricucire questi rapporti. Non possiamo assolutamente permetterci di indebitarci ulteriormente se a questo debito non è accompagnata una crescita e una ricrescita vorrei dire economica delle nostre imprese e del nostro territorio. Forza Italia sta attraversando una fase di rifondazione annuncia il futuro in un centrodestra unito ma diverso da quello che abbiamo conosciuto finora. Il partito in questo momento sta affrontando una fase di rinnovamento e ricostituzione di tutti i direttivi provinciali. Avremo già lunedì prossimo una riunione importante all'interno della quale poi insomma saranno ricostituiti i provinciali e anche il nuovo direttivo regionale all'interno del quale evidentemente saranno anche coinvolte tutte le nostre forze a livello amministrativo, sindaci e amministratori locali.